e io a radio che è totalmente vuoto adesso quello che vi chiedo è ci dividiamo in tre squadre allora chi faccia la tappe qua e il passoletto rosso chi parte la tua squadra? facciamo vedere le signorine? blu verde sperate che potete collaborare grazie e andiamo a metterlo ok noi li mettiamo dentro il suo posto poi il furaggiollo grazie e il furaggio verde grazie è già sparito? è già sparito? allora il furaggio adesso lo mettiamo qua poi c'era il giallo lo mettiamo qua e il verde lo mettiamo qua ok lasciamo qua adesso il furaggio devono potete legarli allora facciamo anche un'esperienza e una parola magica di destra agli altri per il furaggio ci mettiamo di scena facendo in un bel modo ci vediamo adesso il pubblico in chino applauso giallo giusto? giusto? lo mettiamo qua anche te principessa è quella principessa che le fuori il furaggio così con grazia ci giudiamo e elegantemente facciamo un paolo ci giudiamo ci giudiamo verso il pubblico un po' applauso e il fuori facciamo il furaggio o il furaggio il furaggio anche qua ci facciamo un po' e adesso cura rosso parola magica era alhawa vediamo cosa succede con alhawa succede no niente seconda parola magica alhawa terza parola magica simsala bin bin cin cin bin cin cin bin simsala bin vediamo no proviamo a fare una cosa proviamo che altre altre tutti quanti invitati sono loro awaia adracadabra simsala min vediamo cosa succede a tre andiamo vai uno due tre vediamo un applauso a voi un applauso a voi un applauso a voi